Se l'Atalanta resta in partita fino al 97esimo, 7 minuti di recupero lo deve a Duan Zapata, uomo mercato, lo sappiamo qualche giorno fa ha costato alla Roma, ha scelto di rimanere a Bergamo, ha un primo tempo discreto, comunque di impegno ma senza particolari graffi e poi invece il gol è un gol bellissimo, un gol d'attaccante puro, il gol che di fatto riapre in avvio di secondo tempo la partita ma che non basta all'Atalanta per evitare la sconfitta. Il voto è 6,5 ovviamente dovuto al gol che è un gol di ottima fattura dopo una prestazione che fino a quel momento non era stata del tutto convincente.